Ah, che grande classico! E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il duomo della città di Nomburg è stato eletto Patrimonio Culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra? No! No! Non andartene, ma scusami una cosa, ma proprio la Toscana del Nord è di andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione. Gero, non andartene! Gero, non andartene, resta qui. Grazie! Noi del sud facciamo discussione in posta Siamo allergici alle strisce Di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali Si sa, noi del sud leggiamo libri a stento Si sa, noi del sud collezioniamo caffè scrocco Imbattibili nel lancio di parole dai balconi Siamo tesserati al club delle romani Ciao Mama, also hier ist es richtig schön Die Menschen sind toll, nett, freundlich Und derweil Aber glaub nicht, dass ich nur gefeiert habe Hab auch mich angepackt Diese jungen Winzer hier haben ein Sekt drauf Ich war in der Rotkämpchen Erlebniswelt Das war ein absoluter Genuss Hier machen sie Deutschlands beliebtesten Sekt Natürlich bringe ich dir was mit Hey, tolle Farbe Stell dir vor Mama, ich habe sogar Pizza gemacht Ganz ehrlich, die war fast so gut wie deine Dann habe ich eine Zeitreise gemacht Mama, die Feste und Traditionen hier sind einfach der Knaller Mama, wenn du nur hier sein könntest einfach großartig Oh, Gero mio Porta pazienza al pervenismo Io preferisco il rumore della verità Und dann habe ich es gefunden, Mama Das Weltkulturerbe Und ich habe sie gefunden In einer Region von Entdeckergeist und unschätzbarem Wert Mit majestätischen Orden voller Geschichte und Innovation Mit mutigen Ideen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten In einer Schönheit, als wäre sie nicht von dieser Welt Wo Schätze vergangener Zeiten wieder sichtbar Und Meisterwerke wieder hörbar gemacht werden Und Meisterwerke wieder hörbar gemacht werden Und Meisterwerke wieder hörbar gemacht werden è un solo riuscito mamma, tu non credi cosa anche da qui? il nostro zucchero! bringe di anche una piccola costruzione ci sono anche italiani che costruzze di più qualità e ottenere grandi idee che costruzze ad avere questo sarebbe qualcosa per il tuo Garten qui è successo, mamma qui è successo il Wandel ahahah qui è davvero fantastico è davvero fantastico Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.